Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi vediamo praticamente in presa diretta un diffusore di aromi nuovo della OKE per capire di cosa si tratta perché è il primo che onestamente vado a utilizzare Contestualmente a questo video trovate anche la recensione di un antatore wifi che vi lascio come sempre tra i suggeriti Iniziamo subito poi aprendo la confezione Procediamo al volo con l'unboxing Dunque andiamo ad aprire e vediamo cosa troviamo all'interno della confezione Manualistica solita e andando a cavolgere la scatola troviamo il prodotto in sé per sé Con questa forma diciamo abbastanza originale E la parte relativa al vaschetta presumo per versare il prodotto dall'aroma da mettere E il cavo relativo all'alimentazione E dunque sono passato direttamente dopo averlo montato ho semplicemente riempito Messo un po' d'acqua poi si possono aggiungere anche degli oli per profumare in modo differente la stanza Comunque nel serbatoio che è presente qui sotto, niente di più facile E dal momento in cui si accende parte ovviamente la produzione di vapore Possiamo cambiare tramite il pulsante che è presente nella parte inferiore Poi volendo spegnere Vediamo che la fotocamera poi si regola a seconda del colore che mette A seconda della frequenza poi ottiene un effetto differente Ad ogni modo si può anche impostare la possibilità di cambiare colore automaticamente E il vapore che viene prodotto, se riuscirà a vederlo Può essere intervallato ad un'ora, tre ore o anche più Premendo semplicemente l'altro pulsante che è presente nella parte inferiore E a seconda di quanto impostiamo poi il prodotto si spegnerà da solo Può essere utile per inumidire le stanze Magari in questo periodo è un pochettino più caldo Però è indicato anche come aromaterapia O possibilità comunque di rilassamento relativo Io ho anche pensato che magari si può buttare in qualche video Perché fa scena con la luce e col vapore prodotto Però questo è un utilizzo ovviamente successivo È un buon prodotto, non costa nemmeno molto effettivamente E lo testerò però già partendo da questo presupposto Vedendo quello che viene prodotto adesso e mettendo la mano sopra Mi rendo conto che effettivamente raffredda l'ambiente E quindi evita magari in queste giornate molto calde Tutta l'estate che abbiamo davanti Diciamo rende più vivibile gli ambiti domestici Se non avete climatizzatore o altro Con un dispendio di energia praticamente minimo E l'utilizzo di un po' d'acqua che prendete chiaramente al rubinetto Quindi un costo praticamente irrisorio Quindi se volete stare in un ambiente un pochettino più fresco Può essere secondo me un acquisto interessante La forma varia, ve ne metto due o tre varianti in descrizione E se avete domande magari scrivetemi Vediamo, scopriamo assieme qualche altra caratteristica Comunque sembra molto simpatico come prodotto Io vi invito a lasciare un like a questo video fatto in presa diretta Quindi un pochettino in modo differente rispetto a come vi avevo visto in precedenza Se avete le domande come sempre giù nei commenti E noi ci vediamo al prossimo video come sempre